La dea musica è con lei che parte integrante e portante del nostro cammino, del nostro percorso umano, della nostra storia, della nostra vita. Ci sostiene nei momenti felici e nei momenti bui. Ci indica la strada da seguire, negli inevitabili momenti di incertezza. Lei, segno di rinascita, con la varietà infinita di suoni che è in grado di offrire, riesce a renderci veramente liberi. Liberi da ogni catena, da ogni frustrazione. E così, lei è solo lei, e pura arte congenita. E come prima maestra di vita, risiede nei nostri cuori, fin da sempre, come Supalova. Supalova 3D sarà il tuo sogno, il tuo desiderio, la tua fantasia, sarà la tua speranza, il tuo amore. Sarà tutto quello di cui hai bisogno. Sarà la tua musica. Supalova 3D. Ladies and gentlemen, Joe T. Vanelli.